ragazzi ragazzi eccoci qua su tales of a rise dunque siamo arrivati in una fase interessante devo dire della trama principale poiché la maschera si è completamente rotta era quella che non ci faceva provare dolore come abbiamo potuto vedere shon è stata rapita la situazione non è proprio bellissima anche se si può dire abbiamo sconfitto ma non ucciso la lord ci ha pensato l'altro lord a farla fuori e adesso secondo me vivremo forse i ricordi di alfe molto probabilmente quando secondo me si trovava oddio sull'altro pianeta che adesso non mi viene in mente il nome comunque sul pianeta che si vede da da dove siamo noi caricamento di energia quasi ultimato erogazione stabile attendere vediamo un po siamo non è stato confermato a parole ma secondo me siamo a parte che mi sembra palese dei renani c'è una bambina papà non torna a casa da tempo così ho deciso di venire a trovarlo ma non mi lasciano passare non è giusto spero finisca presto di lavorare così potrò vederlo qua è pieno di stelline legata alla missione principale la vergine avrà un luogo di supervisione tu cerca di non distarti durante la cerimonia dipendente laboratorio renano non deludermi deludermi numero 1273 se ci tieni a tornare a casa a essere sinceri iniziavo a sudare freddo se tu non avessi funzionato come avremmo fatto ma noi quindi siamo esseri artificiali allora è la prima volta che riusciamo a mettere insieme un sovrano e una vergine pronti per la cerimonia del resto la vergine shion che comunque nei frame che vedevamo di ricordi nostri era lei quella che ci parlava ma il fatto che tu sia ancora qui ha fugato ogni mio timore come siamo stati creati apposta per diventare sovrani però umani artificiali e questo è il soggetto sperimentale? accidenti sembra uno di noi all'esterno forse all'interno è un barbaro come tutti gli altri spero tu non abbia dimenticato il mio avvertimento no signora mai toccare i soggetti sperimentali giusto non puoi procedere oltre dana dovrai attendere finché i preparativi della cerimonia non saranno conclusi però ci chiamano dana qui mi sa che non si può andare il soggetto sperimentale nel 1273 è autorizzato ad accedere torno in posizione e attendi inizio della cerimonia immagino devo andare di qua un altro fallimento ricorda numero 1273 tu sei il nostro unico successo devi evitare a ogni costo che il nostro lavoro di ricerca vada in fumo questi altri esperimenti o sei tu numero 1273 o dovrai chiamarti sovrano non puoi immaginare quanto tempo e fatica abbiamo dedicato alla tua creazione arrivati a questo punto non possiamo rischiare la tua incolumità sovrano ma per la disfida reale il sovrano boh non so veniva scelto no che vinceva no non so che abbia avuto l'idea di chiamarti sovrano in fondo sei una banale cavia il tuo unico merito è la predisposizione fisica al tuo compito i tuoi pensieri e sentimenti non ci interessano è qui che mi sbagliate si sbagliate ma non so se non si sbagliate e quindi mi sbagliate non so che si sbagliate non so che cosa non so che cosa non so che cosa mi sapevo che cosa non so che sia un uomo dico in generale, nei vari giochi, che trattano le cavie come peggio degli schiavi, peggio degli insetti, eccetera, e poi si ribellano, sai. A giudicare dalle statistiche il sesso biologico del soggetto ha un'incidenza pressoché nulla su proprietà di successo o fallimento. Ehm, vediamo giusto cosa dice lui, voi da nani non sapete orientarvi da soli o siete totalmente stupidi da riuscire a perdervi in un posto così piccolo? Hai un compito da svolgere, portalo a termine, torna in posizione. Quindi, abba di là l'avevo visto, qua forse. Ah, vedi, questo è Sean, ci siamo, Alphen. È giunto il momento, dunque. Già, dobbiamo cambiarci d'abito, poi ci troveremo davanti al dispositivo di trasferimento. Quando sarà tutto finito, potrai finalmente tornare a casa. È ciò che mi auguro. Mi spiace averti coinvolto tutto questo. Non è colpa tua. Esolviamo la questione e lasciamoci tutto alle spalle. D'accordo. Beh, quella è Sean, si vede. Ah, no. Non è Sean, sembrava lei. Non è Arrfe! 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 Asomigliava a Sean, però... C'è questo? C'è questo? C'è quanto riguarda? C'è quello che c'è stato fatto? Ah... Ah, sì... Sion! Quanti io t'ho fatto? Ma tornare... Non è un sogno... Qui... Tutti... questo non va bene non va assolutamente bene gruppo sciolto nucleo primario vento ok questo l'abbiamo preso però ok vediamo un po' cioè no ho pensato che ne so che magari Sean l'ha sempre conosciuto e ha fatto sempre finta di nulla però effettivamente non ha senso però boh risomigliava non so ehm grando 31 ah adesso facciamo ok ovviamente è una mossa normale togliamo nulla c'è poco comunque giusto con questo togliamo abbastanza vabbè che è corazzato in effetti ah no ci abbiamo sì oltre il limite ma non possiamo usarlo non abbiamo la spada aspetta aspetta che attacco da davanti non va bene l'azione brutta da soli no mi ha paralizza aspetta da soli no eh 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 però questo ok eh usiamo questa mossa va è quella più forte che abbiamo ok ok ma quanto li togliamo molto bene ok ok è Sì, sembrava di vivere, mi sembrava di bene? Ah, sì Perchè, non mi sembrava, perché l'Alphen è l'ultima Qui c'è una città di Tisvim? Loro e Kitarra sono qui 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 c'è? C'è quello che vuoi? Il Ganas-Harros è un paio di Bollarn C'è un paio che si è riuscita nella terra C'è un paio che dovessi pensare che sia bene C'è un paio? C'è un paio di Sion Sion... Ah... Sì, dovremmo spiegare tutto magari anche a loro, no? Forse adesso i ricordi sono ritornati tutti, o forse in parte. Ringworld Olim, ok. Fine della vendetta, va bene. Abbiamo, sì, aspettiamo che ci sono tutti, va? Qua c'è... Aspetta. In teoria c'è da qualche parte un gufo, vediamo se per caso... Io non ne abbia più abituato a sentire il dolore, probabilmente. È spesato, non lo so. Mi lascerei stare, forse è possibile. Qua c'è un gufo. Eccolo. Qua c'è un gufo. Tisbim è un giro un po' troppo cambiato. È un giro di giro, ma non è un giro. È un giro di giro. Ce ne frega niente pare Aspetta ok Ben da destra Aspetta ok Aspetta ok Scommetto che non è una bella cosa Non al cento per cento almeno Aspetta ok 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 Eh, sorella Sì, la mia Sì, la mia Sì, la mia Sì, la mia E' la mia vita di Neregis ... 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 Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. ... ... 300 anni fa prima. 300 anni fa? C'è quello? C'è vero? C'è stato un uomo? C'è un uomo? Non è una sorella, eh. Non so. Bis 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 non. Ma scusa, come ha fatto a sopravvivere? C'è un uomo? 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 Grazie a tutti 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 La tua domanda costa di tua Va bene bene ovviamente Siamo in un punto della storia che non possiamo Andare dove vogliamo Ma giustamente Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Infatti Grazie a tutti 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 Grazie a tutti